Io mi disarbo! 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 3, 2, 1... Al mondo senza comica! ...per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe catastrofico per tutti. La gente comune, così come molti uomini a potere, ancora non ha ben compreso quali potrebbero essere le conseguenze di una guerra combattuta con armi nucleari. Ora sappiamo che le bombe atomiche possono evitare gradatamente la distruzione di zone molto più vaste di quanto si fosse presunto. contavorevole, fanno di caracchio...